Siamo alla Lendarte al Furlo, organizzata dalla Casa degli Artisti. Per questa terza edizione installazioni all'aperto, dal giardino della casa, vecchia abitazione degli operai dell'Enel, alla diga in calcestruzzo. E una mostra di test in ceramica nella chiesetta adiacente alla vecchia galleria romana nella gola del Furlo. Speranza Neri ci presenta le sue opere, esposte nella chiesa, aperte nei fini settimana di settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Allora, mi chiamo Speranza Neri e sono una ceramista romana. Le mie sculture si ispirano al quotidiano. Sono ironiche, grottesche, rappresentano un po' quelle che sono le debolezze e i drammi, alcune vostre, della nostra società. E cerco di prendere dei simboli universali che siano uguali per tutti e con un po' di gioco, un po' di gioia, di rappresentare questi miei personaggi un po' assurdi, molto colorati, molto forti, molto incisivi, per appunto permettere in risalto in qualche modo alcuni punti deboli, diciamo, che abbiamo tutti quanti. Grazie. Grazie.